E ciao a tutti qui da AbelFC, in questo video andiamo a vedere insieme i jolly del mantra 2022-2023 quei calciatori che nel mantra ricoprono più ruoli e sono fondamentali per ogni stagione di fantacalcio ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale, lasciaci un bel like, aiutaci a crescere vai a vedere nel link in descrizione fantacalcio pro e anche il nostro abbonamento VIP e il primo calciatore che vi segnalo come jolly per il fantacalcio mantra di questa stagione è Jack Bonaventura che può rigiocare come centrocampista esterno oppure trequartista, infatti può ricoprire tre ruoli diversi quindi è un vero jolly per il fantacalcio mantra. In questa stagione secondo me farà molto bene sta bene fisicamente, partirà titolare e l'attacco della Fiorentina è migliorato perché sono rimasti giocatori secondo me interessanti, forti come Icone e soprattutto Gonzales quindi insieme a loro, dietro di loro può fare molto bene poi con Jovic che secondo me partirà titolare lì davanti come centrale, come punta centrale abbiamo anche Cabral che può entrare, insomma la Fiorentina sarà una macchina da gol secondo me in questa stagione e Jack farà secondo me su quei 4-5 gol e altre tanti assist quindi per il mantra è il jolly che potenzialmente ci può fare più bonus e il secondo jolly della nostra lista si tratta di Andrea Cambiaso rivelazione l'anno scorso in campionato, ha fatto una stagione fantastica con il Genoa è passata la Juventus ma adesso giocherà in prestito al Bologna può ricoprire il ruolo di difensore destro, difensore sinistro e anche esterno giocherà infatti al centro campo, diciamo che è un tra virgolette un fuori ruolo perché lo puoi schierare come difensore nel tuo modulo dal mantra ma in realtà giocherà lì al centro campo e anche lui farà secondo me molti bonus perché è bravo a fare gli assist e col Bologna secondo me farà quei 4-5 assist almeno in campionato e perché no anche 2-3 gol quindi Andrea Cambiaso è un calciatore molto interessante per il mantra perché vi può salvare veramente il fondo schiena ricopre ruoli importanti ed è il nostro secondo jolly il terzo jolly si tratta di Danilo Luis da Silva Danilo della Juventus è un calciatore che ha avuto un po' di guai fisici ma sembra che sia a posto può ricoprire anche lui i ruoli di difensore destro, sinistro ed esterno ed è un calciatore secondo me da abbinare a De Sciglio cioè se prendete Danilo per vari motivi è meglio prendere anche De Sciglio non è un calciatore che vi farà tantissimi bonus ma sarà presente titolare alla Juventus nella maggior parte delle partite e la Juventus come è migliorata molto nel livello offensivo ha preso giocatori interessanti secondo me Danilo rispetta la stagione scorsa un nuovo attacco che ha la Juve secondo me Danilo potrà fare più assist farà quindi più bonus anche se non è una macchina da bonus farà secondo me molti più bonus della stagione scorsa ed è un calciatore che ti dà la costanza quei 6 fisso pulito in tutte le partite che gioca da fare attenzione soltanto a livello fisico capire le prime partite e capire anche la titolarità insieme a De Sciglio un altro calciatore gioli molto interessante si tratta di Adam Masina un calciatore che ha giocato molto bene al Bologna è stato venduto all'estero e adesso è ritornato all'Udinese anche lui può ricoprire tre ruoli difensore centrale, sinistro ed esterno giocherà però come difensore centrale lì a sinistra quindi attenzione a queste cose ma è uno che giocherà tutte le partite secondo me qualche bonus lo farà ma pochi è da puntare come ultima slot nel calcio mantra come difensore o comunque penultima o ultima slot perché ha la certezza di avere la titolarità è un giocatore appunto che può ricoprire tre ruoli e vi può salvare in molte giornate l'altro calciatore molto interessante e questo per me è uno che ci punterò nel mantra è Marusic Adam Marusic della Lazio che partirà titolare un calciatore che può fare molti assist quest'anno la Lazio cresce sempre di più secondo me rimane Milinkovic, Savic tutti i calciatori lì davanti sappiamo già chi sono anche il capo canale del campionato immobile perciò Marusic secondo me ricoprendo questi ruoli qua vi può fare tanti bonus lo potete schierare come difensore è uno che fa molti assist e può fare anche più gol della stagione scorsa un altro calciatore che vi segnalo come jolly questo qua sarà molto snobbato un po' da tutti si tratta di Federico Di Marco dell'Inter Di Marco è un vero jolly non soltanto nel mantra ma anche per Inzaghi l'anno scorso l'ha fatto giocare 32 partite quindi lo fa giocare molto e anche in questa stagione secondo me se rimane all'Inter giocherà più o meno quelle partite è uno che può entrare in partite in corso e fare un gol oppure un assist è un calciatore molto imprevedibile e c'è anche la possibilità di vederlo in un'altra squadra di serie A e forse sarà titolare in quest'altra squadra quindi facciamo attenzione anche a lui perché se va a finire per esempio alla Fiorentina o un'altra squadra comunque di metà classifica o comunque anche di alta classifica può diventare titolare fisso e farci veramente tanti bonus perché lui comunque i gol li fa e l'ultimo calciatore che abbiamo scelto come jolly al mantra si tratta di De Sciglio vi dico la verità Mattia De Sciglio è un po' triste come calciatore perché è sempre quel calciatore che fa sempre sei fisso che non si inventa niente fa solo quello che deve fare e basta però nel mantra è importante perché? perché ricopre comunque tre ruoli e giocherà comunque alla Juventus è da prendere insieme a Danilo come vi dicevo prima se diventa titolare durante la stagione può regalare comunque alcuni bonus soprattutto in questa stagione dove ci sono giocatori lì davanti alla Juve che sono fortissimi e che secondo me faranno molto ma molto meglio dell'anno scorso riusciranno secondo me a fare più gol quindi Mattia De Sciglio anche se è un calciatore diciamo da 6 da costanza continua e pochi bonus secondo me qualche bonus in più lo farà mi raccomando se ti è piaciuto questo video lasciaci un bel like aiutaci a crescere lascia anche un commento qui sotto su quello che pensi di questa lista e se vuoi aggiungere altri calciatori interessanti per il mantra come i Jolly che hanno più ruoli vai a vedere anche nel link in descrizione Fanta Calcio Pro e anche il nostro abbonamento VIP ci vediamo presto qui da Abel AFC ciao a tutti